eccola mi si chiederà perché non lo fai con la frontale perché la frontale è una qualità più scadente per questa non dico la marca del telefono perché non mi paga nessuno per la pubblicità non c'è un giorno di cammino da Almendralejo spero che lo pronuncio bene perché non mi entra in testa questo nome ho appena superato torre Machin che era la tappa intermedia quella che volevo raggiungere ieri un bazzo se sapeste quando sono arrivato ad Almendralejo e mi sono tolto le scarpe quello che ho visto sui miei piedi a meravigliosa però una bella doccia da via tutto però sì sì c'è da restare a volte un po impressionato da quello che succede a dei piedi non abituati a fare 40 chilometri in un giorno insomma la prima volta che si fanno già bella questa discarica proprio in mezzo al cammino ogni tanto ci sta ci stiamo avvicinando a una grande città è proprio questo quello che a cui pensavo prima non ho notato anche in altri cammini a mano che ti avvicini alle grandi città nel mio caso è merita i paesi limitrofi sembrano prendere il peggio della grande città no perché magari la grande città ha una sua storia delle bellezze architettoniche notevoli però ci vuole sempre la gente che magari nella grande città è più stressata da tante cose dalle difficoltà di socializzazione perché si torna a passare ad essere numeri quindi tutta questa negatività interiore si riversa anche su gli abitanti dei paesi limitrofi che magari lavorano sia con gente che viene dalla grande città oppure loro stessi vanno a lavorare nella grande città e si vede perché questi paesi sono un po' senza alma no cioè ci vedi delle cose belle tipo una chiesa bella un bel palazzo proprio intorno ci costruiscono davanti a un bel palazzo magari una casa che non ha nessun criterio architettonico nessuno cioè io ho apprezzato tantissimo i paesini tipo la manetta della plata castilblanco case semplici semplicissime case povere però tenute benissimo bianchissime perché probabilmente li passano il bianco continuamente per non farli andare qua invece no non succede in questi paesi c'è trovi spostizia per terra è come se la gente fosse più lasciata andare come se non avesse un'anima cosa che più o meno accade se ci pensate in tutti i paesi limitrofi e le grandi città in buona parte o almeno questa è una mia sensazione ma non so se può essere condivisa quindi va bene uguale perché il cammino in qualche modo quando è il cammino per come lo vivi tu regala delle emozioni io lo vivo in un certo modo perché sento il bisogno di vivere in un certo modo anche perché la mia fede attuale ora riflettevo anche un po su questo perché qualcuno potrebbe pensare vabbè perché vedi le frecce e suggestione cioè non ti stai pian piano sentendo meglio perché il cammino a chissà cosa e perché vedi la freccia tu credi che quella freccia l'associ a un simbolo che in fondo hai sempre alla strada accanto perché poco fa sulla strada stai male qua invece stai vedete in esso alcune cose non c'è neanche bisogno di interrogarsi secondo me è troppo perché se ci stai troppo a pensare si spezza la magia e alla fine cos'è più vantaggioso per noi credere in una realtà che ci siamo costruiti su misura può essere sempre troppo attaccati ai sensi in fondo la scienza ci dice che ci sono delle cose che noi non vediamo oppure esistono a parte la fisica dei quanti ma gli stessi raggi infrarossi gli ultravioletti ci sono tanti elementi in natura le molecole di ossigeno non le vediamo i nostri occhi non ci fanno vedere tutto anche per una questione di comodità perché immagini che confusione sarebbe mentre stai guidando la macchina sull'autostrada vederti tutti i raggi che ti passano le molecole di ossigeno che ti ti passano davanti agli occhi sarebbe un delirio non potresti guidare quindi io credo che la fede sia sia anche questo cioè nel senso è un mix tra la magia che è ciò che non vediamo e la realtà cioè la realtà è che sul cammino ci sono delle cose che ti fanno stare bene da questa parte c'è la strada e le macchine che passano la vita ordinaria da quest'altra ci sono le querce gli olivi la campagna l'idea che fra un po' sarò di nuovo immerso nel silenzio e cioè cosa mi conviene scegliere cioè il fatto che qui mi hanno costruito una cosa apposta per farmi stare bene mentre lì c'è la vita ordinaria o che qui ci sia una magia diversa che qui ci sia la vita per come per come non ci è stata insegnata per quella che è realmente per noi per quella che dovrebbe essere per noi ora è difficile dare risposta ad alcune domande perché entriamo davvero nel campo della metafisica però io credo che la cosa importante sia davvero credere in qualcosa ora io penso nella mia forse un po' superbia che c'è in cui credo non si discosti poi così tanto dalla realtà chiaramente se parli con un con un pazzo psicopatico con uno schizofrenico la sua realtà è un pochino troppo lontana da quella là reale però quando si tratta di spiritualità io credo che se tu già riesci ad arrivare un pochino a credere che ci sia qualcosa che va oltre i sensi anche le analisi scientifiche per carità se riesci a credere la tua vita migliora e il cammino ti aiuta almeno il cammino mi aiuta in questo a credere che ci sia qualcosa che va al di là la famosa ricerca della magia anche se qui a volte è un po' difficile orientarsi ora cambiando discorso perché io mentre parlo poi cammino magari mi manca una freccia che mi piacerebbe in realtà andare di qua però non credo che sia di qua perché il cippo dell'estrematura mi indica questa strada quindi immagino che sia questa va bene proseguiamo allora c'è la ferrovia è un pochino più vintage dell'autovia ad ogni modo sono sempre sempre contento stamane mi sono alzato tutto sommato abbastanza bene i piedi me li sentivo un po' stretti nelle scarpe ma probabilmente per la lunga camminata di ieri però andando si sono liberati si è allargato un po' il tutto mi sono accorto anche che è cambiato molto il modo in cui reagisce il mio corpo all'inizio dicevo che non facevo pipì sudavo molto bevevo un sacco adesso invece ho ricominciato a fare tutto regolarmente bevo normale normalmente faccio pipì una particolarità è che è cristallina è trasparente come mi hanno sempre detto la pipì deve essere trasparente è guai a te se puzza o sei di diverso colore quindi è come se il mio corpo si fosse ripulito del tutto all'inizio e adesso non avesse bisogno di molto per andare avanti è perché per ritornare al nostro stato cioè di nomadi di camminatori dobbiamo essere puliti quindi lui si è ripulito tutto e ora mi sta facendo andare serenamente che meraviglia va bene volevo solo dire questo sulla strada per merita sperando che il vento non condizioni troppo le mie parole ci risentiamo dopo oppure domani uguale tanto comunque con la camerina qui sto facendo anche un sacco di riprese sto fissando diversi pensieri per me è importante questo di che qualsiasi altra cosa non è tanto la condivisione sì sapere che ci sono persone che possono che tu che guardi in questo momento puoi sorridere e dire mica Nicola è vero cazzo bella questa cosa anch'io la sento allora è giusto non sono un coglione no? cioè la condivisione nel fatto di sentirsi parte di qualcosa che comunque appartiene a tutti in cui possiamo riconoscerci tutti è importante quindi io ho anche questa questa speranza però serve anche a me perché mi piace pensare che un giorno quando riguarderò queste immagini riuscirò a rievocare queste emozioni basta e vado avanti che se no parlando troppo poi qua uno si stanca poi mi smarrisco le frecce e già oggi è un pochino particolare questo percorso perché è stata metà carrettera e l'altra metà sembra carrettera sembra spero di ad ogni modo a dopo a dopo